Noto che stamattina ci sta il ricordo della strage di Roma, gli amici del marciapiede che hanno dato vita a questo nuovo corso di una strage dimenticata e infatti fu proprio nella stanza di Montanelli del Corriere della Sera di alcuni anni fa che ha preso nuova vita, grazie a noi e grazie all'amministrazione Ambrosio. Lei che pensa? Anche domani ci sarà la commemorazione ufficiale del Comune. Ma il tema è proprio questo, il tema è quello del ricordo, della memoria, commemorazione. Si tratta da un lato di evitare che la polvere della storia mandi nel dimenticatoio sacrifici che hanno consentito poi alla democrazia e alla libertà di cui oggi godiamo di nascere e dall'altro di prendere insegnamento da quegli eroici comportamenti per avere un rigore morale dei nostri comportamenti pubblici e privati. Quindi ricordo perché non si perda la memoria dei nostri eroi e dei nostri valori. E quindi onestamente questa commemorazione di stamattina era opportuno che ci fosse anche l'associazione. Questa commemorazione nasce dal basso, nel senso che l'assessorato ai beni culturali ha invitato tutte le associazioni, tutti i singoli, tutti i livelli strutturati a presentare proposte, a presentare idee confrontandosi. Forse è mancato questo raccordo ma non certamente per una dimenticanza o una volontà di esclusione. L'avviso è stato pubblicato seppure ad agosto perché i tempi sono serrati. È un passo che dobbiamo poi ulteriormente sviluppare.